Il Ponte Romano guadagna tre punti importantissimi in ottica salvezza, mentre la Miternina esce a mani vuote dal campo di Villa Romano, fischia il signore Cataldo Zito di Rossano. Dopo 5 minuti Francia anticipa Rossetti, tira ma la palla viene salvata sulla linea. Al decimo ci prova Manuel Di Sante che rientra sul sinistro ma spara abbondantemente sul fondo. Dopo 2 minuti altro salvataggio sulla linea, sul tocco morbido di Manuel Di Sante. Al ventunesimo si vede la Miternina con Marchetti che sul cross di Tuzzi non riesce a metterla dentro. Poi ci prova Tuzzi da calcio di punizione ma Farnese le dice di no. Alla mezz'ora tira Manuel Di Sante ma il suo tiro viene ribattuto in corner. L'ultima azione del primo tempo è sui piedi di Manuel Di Sante che tira centrale e Rossetti ribatte con i pugni. Il secondo tempo inizia con un'occasione per Manuel Di Sante che innescato da Pallitti tira ma trova la risposta di Rossetti. Un minuto dopo, al dodicesimo, Di Sante rientra sul destro ma la palla sfiora il palo e va sul fondo. Al diciottesimo arriva il gol decisivo di Marcozzi che dopo una sponda di Pallitti insacca alle spalle dell'incolpevole Rossetti. Il finale di partita è tutto aquilano. Prima Barchetti colpisce di testa a botta sicura ma trova la risposta di Farnese. E poi al quarantasettesimo Fantauzzi prova il tiro dal limite ma la palla finisce a lato. A fine gara il commento dei due tecnici. Vittoria importante, diciamo diamo seguito a quella di domenica scorsa. Abbiamo sofferto nonostante penso che in campo abbiamo fatto abbastanza bene. Chiaro c'è mancato il gol e poi queste partite sono da sblocchi. Può diventare più complicata, ancora più complicata di come è stata. Però diciamo siamo stati bravi, abbiamo subito poco, loro un paio di cross. Forse per il resto sono stati poco pericolosi. Noi abbiamo avuto tante occasioni. È stato forse il difetto dall'inizio dell'anno questo. Però facciamo un'ottima fase difensiva. Dal giro ritorno abbiamo subito gol solo sul rigore e sul calcio d'angolo. Per cui stiamo facendo bene dietro, davanti creiamo e prima o poi torneremo a fare anche più gol. Non siamo entrati bene in campo perché i primi dieci minuti loro sono stati pericolosi e potevano fare un paio di gol. Poi abbiamo fatto un'azione pericolosa noi dove è stato bravo il loro portiere a parare tu per tu con il nostro giocatore. La partita da loro in poi è stata equilibrata. Hanno avuto delle palle e golle noi, abbiamo avuto delle palle e golle noi. Su un campo dove è difficile magari fare tre o quattro passaggi di file abbiamo capito come giocare e siamo stati più pericolosi. Poi abbiamo preso questo gol con una punizione da centrocampo. Non siamo stati bravi a leggere una traiettoria che è caduta nella nostra aria. Da là abbiamo perso la partita perché sono tante partite che perdiamo per degli errori di questo genere di attenzione. Adesso la classifica si fa brutta. Più che la posizione dobbiamo stare attenti allo scarto dei punti. Quindi dobbiamo rimanere tranquilli, concentrati e venire fuori da questa situazione perché sennò rischiamo anche di non fare i play-out.